Avete mai provato le polpette di minestrone avanzato? Sono buonissime! Io ovviamente le ho fritte perché mi piacciono di più. Vediamo insieme come prepararli. Gocciolate per bene il minestrone già cotto. Condire l'uovo con il sale e il pepe, quindi sbattere molto bene con l'aiuto di una forchetta. Inserite insieme al minestrone, mettiamo il parmigiano e successivamente lavorate il tutto. Adesso mettiamo anche la farina. Io utilizzo la farina di riso. Prima ne aggiungo due cucchiai. Se vedo che il composto non è ancora come mi piace a me, ne aggiungo un altro e continuo a lavorare. Scaldare l'olio in una padella e mettiamo il composto a cucchiaiate, così. Friggere da entrambe le parti fino a completa doratura. Successivamente scolate su carta assorbente. Ovviamente li potete fare anche al forno, ma consiglio di mettere pangrattato. Buonissimi!